Le urne dell'8 e 9 giugno hanno detto che con 541 voti Michele Redaelli è stato il candidato al Consiglio Comunale più votato e dunque rieletto al prossimo Consiglio per il prossimo quinquennio. Redaelli, un risultato importante a livello personale che si abbina però a una sconfitta di coalizione? Sì, un risultato importante anche perché già questo era riuscito 5 anni fa, ero già stato il più votato e sono riuscito in qualche modo a riconfermare questo importante risultato anche questa volta con dei numeri in crescita. Da 430 a 541. Per me non sono numeri, sono volti, sono persone, sono luoghi e realtà che ho incontrato e in qualche modo ho tentato di supportare con la mia azione in Consiglio Comunale. Un risultato così però non lo si fa da soli ma lo si fa soltanto dentro una squadra, una squadra che è il mio partito, Fratelli d'Italia, una squadra che è il centrodestra. I risultati personali sono importanti ma chiaramente senza una squadra questo non può esistere, infatti è per questo che c'è comunque dispiacere per il risultato generale ottenuto da una coalizione, una coalizione che comunque cresce, che comunque si consolida, che comunque non ha fatto forse abbastanza, non è riuscito a sfondare quanto serviva per poter essere veramente competitivi e vincere queste elezioni. Avrete un nuovo sindaco al quale fare opposizione, avrete una formazione in parte confermata, in parte rinnovata, penso ad esempio all'ingresso proprio di Marco Lanzi, candidato sindaco. Che coinquegno sarà? Ma noi faremo un'opposizione molto seria, concreta, determinata, senza sconti. È un lavoro che sarà capillare, sarà capillare su tante tematiche perché i problemi che abbiamo evidenziato negli anni scorsi sono ancora tutti presenti e noi vogliamo ripartire da lì con determinazione nell'analisi dei problemi ma anche con grande senso di responsabilità nell'individuare soluzioni proposte, soluzioni propositive perché teniamo la nostra città e crediamo che sia anche compito nostro migliorarla. A livello personale quest'ultimo anno ha detto anche il suo congedo da Forza Italia e l'adesione a Fratelli d'Italia. Poteva forse sulla carta essere un'arma a doppio taglio, invece si è dimostrato la conferma su una politica che guarda più alle persone, almeno nel suo caso, rispetto alle sigle di partito. Sì, il mio tentativo è quello di fare una politica veramente a contatto con le persone, andando a incontrare, andando a verificare nei luoghi. La mia scelta è legata a una scelta di politica. Io credo nello scenario del conservatorismo, credo nel lavoro che sta facendo Giorgia Meloni al governo e credo che nel conservatorismo si possa costruire quella che può essere la casa di tante persone del centro-destra e che credono in questi ideali chiari, fermi, ma che credono anche che si possa avere un dialogo sicuramente e una leadership all'interno della compagine di centro-destra. Tempi quanto mai prematuri, ma questo essere il più votato del centro-destra dà magari pensieri anche di candidatura a livello personale a sindaco per quello che accadrà tra cinque anni? Prima di ragionare di quello che accadrà tra cinque anni bisogna lavorare su quello che c'è da fare in questi cinque anni. Certamente i numeri sono importanti, certamente questa domanda mi lusinga, so bene che bisogna lavorare, lavorare tanto, con precisione e soprattutto costruire una squadra. Ecco, noi abbiamo il compito in questi cinque anni di costruire una squadra importante, una squadra larga che parta dai quartieri, che parta dal mondo delle associazioni, che parta da tutte quelle persone che in qualche modo vogliono provare a fare la differenza.